Cari amiche, siamo giunti all'ultima puntata della nostra rubrica settimanale. Oggi non vi mostrerò né abiti né vi darò consigli, ma sono qui per ringraziarvi tutte, sia per il tempo che mi avete dedicato, sia per i tantissimi messaggi che mi avete inviato. Sono molto contenta di avervi trasmesso attraverso questi video appuntamenti la passione per il mio lavoro, ponendo alla vostra attenzione temi che mi hanno vista protagonista e che ho vissuto sulla mia pelle in tutti questi anni. Nelle sette puntate abbiamo parlato di uscite romantiche, chili di troppo, abiti da cerimonia, consigli, segreti, suggerimenti. È stato bello mettermi in gioco ancora una volta per le mie adorate clienti e devo dire che è stata una bellissima esperienza che mi ha dato modo di condividere con voi il frutto di tanti studi e aggiornamenti sul settore moda. Ovviamente, per chi dovesse sentire la mia mancanza nel mondo digitale, basterà venire in boutique, dove sarò sempre pronta a trovare la giusta soluzione per i vostri outfit o anche solo per un caffè. Immagino che alcune di voi si staranno già chiedendo quale sarà la prossima novità. Beh, diciamo che Donna Luna è in continuo fermento. Quindi, seguiteci, le sorprese sono dietro l'angolo ed io amo stupirvi. Per chi volesse rivedere tutte le puntate della nostra rubrica, basterà andare nella sezione video della pagina Facebook o sul nostro canale Instagram e a breve li troverete anche sul canale YouTube Donna Luna Teleseterme. È arrivato il momento di salutarci. Un grande abbraccio virtuale a tutte voi e vi ringrazio per aver seguito i consigli di Antonella.